Non pensavo che avrei mai pronunciato queste parole, ma benvenuti su Scappa dal magazzino di MrBeast demoniaco Escape Evil MrBeast's Warehouse Andiamo su New Game, ragazzi, io non ho idea di cosa stiamo per giocare So solo che c'è un MrBeast demoniaco e siamo nel suo magazzino Oh no, oh no, che cosa sta succedendo? Dove sono MrBeast e la sua crew? Devo scoprirlo, ma perché? Perché dobbiamo scoprirlo? Non c'è bisogno di scoprirlo, siamo in un magazzino abbandonato Oh ma, no! Questa è la roba del cerchio? Cioè tipo, stai nel cerchio e se riesci a starci per 32 anni ci sono le pizze Vinci, non so, vinci qualcosa Allora, dobbiamo capire, abbiamo una torcia, qui ci sono dei piatti sporchi Ragazzi, ma la grafica è assurda Toi, 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 che sarebbe toi di toilet Ci sono dei green screen Signor editor, qui su questo green screen può mettere, non lo so, un leone Così, a caso Ok, qui è tutto distrutto Forse stavano girando un video Io mi sono addormentato E poi è successo che non si sa che cosa è successo Ah, devo prendere una delle telecamere e usarla come fonte di luce Non ho capito Scusami, quale telecamera devo prendere per usare come fonte di luce? Non ci sono telecamere da usare come fonte di luce Eh, non posso uscire Quali telecamere devo usare come fonte di luce? Ragazzi, o non ho capito con che tasto devo interagire Oh, oh, boh Devo prendere una telecamera Questa telecamera? Posso staccare la telecamera in qualche modo? Scusate, i controlli, i controlli, quali sono? Ok Usa E Esamina Q Reload In che senso? Spara Mamma mia Non mi fa prendere la telecamera però Quale telecamera dovrei prendere come fonte di luce? Qua c'è una telecamera per terra? Qua non ci sta niente ragazzi Come si prendono le telecamere? Ah, ah Ho trovato la telecamera Ah, premi uno per equipaggiare Oh no Mi è diventata Outlast F per la night vision Aiuto Mi sto cagando addosso Qui c'è qualcosa di sfracellato Ok Potrebbe essere successo qualcosa Non so cosa sia successo Mi sto cagando addosso Ma domanda Posso mettere la night vision? No, ovviamente non posso mettere la night vision Anche senza telecamera Sarebbe stato abbastanza sgrava come cosa Usiamo l'ascensore Guarda che adesso mi giro e arriva qualcuno C'è la canzone di Mr. Beast Ok, ho premuto il terzo piano Perché a quanto pare al terzo piano C'è l'uscita Ragazzi ma voi la sentite la canzone di Mr. Beast? Mi-ste-bi Ma non si scarica la telecamera, vero? Non penso si scarichi E là? C'è nessuno Non ho i piedi Salve Ok, qui dovrebbe esserci l'uscita Devo andare al terzo Domanda Importantissima Ah, ok, ok, niente Non posso ripremere Sull'ascensore Perché devo andare al terzo C'è Aspetta C'è un foglietto Che cos'è che c'è scritto? Ah, per Carl Mi raccomando Non dimenticarti Di controllare La Feastable Factory Prima di andare a casa Non ho capito Cos'è la Feastable Factory Non so cosa sia Lo mettiamo a posto Cos'è? Tipo lo Slenderman? Eh, ma non ho la password Non ho la password Ma scusatemi Come faccio? Ma qua manca proprio un pezzo Ma scusami Non c'è un codice qui? No, non c'è un codice da nessuna parte Eh, come faccio a uscire se mi serve un codice? Mi sono cagato addosso Mi sono cagato addosso Ok, devo usare l'ascensore Probabilmente Devo andare al secondo Ah Questa è la Feastable Ok Ok, praticamente Devo controllare la La Feastable Factory Questa era la zona telecamere Feastable Factory Uscita Immagino che MrBeast sia nella Feastable Factory Ma perché? Perché io sto facendo questa roba? La Night Vision Ok Oh no Generato No, no Ci sono anche i generatori Allora Nella Fattoria Sì, nella Fattoria Nella Factory Non mi ricordo come si traduce in italiano Il tuo obiettivo principale È avviare il generatore localizzato a sinistra Oh no, 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 no Ah Che bello Quando il generatore sta andando Dobbiamo localizzare quattro differenti Feastable E metterli sul tavolo Ok Devo trovare Ok, questo è l'engine Ah L'engine Ah Ecco Qui devo piazzare quattro Feastable Ma che cosa Che cosa sono i Feastable? Sono i cioccolati di MrBeast Oh Oh no Allora Devo trovare quattro Quattro qualcosa Che mi serviranno Per Oh Sono questi? Sono questi! I Feastable sono queste buste Non ho capito cosa siano però C'è qualcuno? Non sembra esserci nessuno per ora Guarda che adesso piazzo il primo E mi mangia Otto Il codice! Ok Quello è MrBeast Quello è MrBeast Ragazzi Lì c'è MrBeast Posso nascondermi? Che posso nascondermi? Ciao MrBeast Io ti voglio tanto bene Dobbiamo stare in silenzio Dobbiamo stare in silenzio Però posso saltare No qui non c'è Qui non c'è niente Ok Ma posso fare del parkour Tipo Non posso fare parkour Non posso fare parkour Però posso salire qui E no vedi vedi Qui c'è per forza qualcosa Sì 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 ragazzi Qua per forza c'è qualcosa Perché dovrebbe farmi fare Del parkour Così a caso No qua non c'è niente Devo per forza saltare sul tubo No MrBeast No MrBeast Io ti voglio bene Per favore lasciami in pace Devo trovare gli altri Feastable Ok Ah ok benzina Ok ok ho preso la benzina Per fare il refuel dell'enjoy Sì ok va bene MrBeast Buoni Feastable Dov'è andato ragazzi? Ragazzi Altra benzina Oh è lì? Ok MrBeast è lì ma non mi vede Perfetto Devo trovare altri Feastable Ma perché uno dovrebbe creare Un gioco di MrBeast? Ok qua abbiamo l'altra benzina Una scala Ok posso salire sulla scala Probabilmente qui ne troverò un altro C'è una candela Sono un po' confuso Perché c'è una candela? Oh no Ma c'è del parkour da fare Com'è? No Non credo Non credo Non credo fosse quello L'obiettivo Allora devo risalire E provare a saltare Su quelle robe lì Cioè lì Qua c'è una candela Devo saltare qui sopra? No no c'è un muro Ok questa cosa Non mi sta piacendo per niente Perché mettere una scala E una candela? Soprattutto Dove sono? Le altre buste? Dov'è MrBeast? MrBeast A 1, 2, 3, 4 Eh vabbè Eh no 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 l'ho sentito No non me lo fa fare Non me lo fa fare Ragazzi Ragazzi devo capire Sono cagato addosso Sono cagato addosso Da che punto inizio? Ah ok Ricomincio dalla fabbrica Ok Qua c'è qualcosa Ma ne ho messo già uno Per caso No ricomincio da zero Ok Però il primo stava qui Da queste parti Ho sbaglio C'era una busta qui Ok La prima busta è qua Poi questo qua Lui dovrebbe apparire Tipo da quella parte Io però dovrei capire Come fare a trovare Le altre tre Ma io le posso piazzare In punti a caso No Devo piazzarle per forza qui 8 Va bene No 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 Ok l'ho visto lì Ragazzi c'è del parkour da fare E su questo Sta venendo verso di me Sta venendo verso di me Shhh Zitti tutti Zitti titti 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 E qui ve Oh ma Oh mamma mia È una specie di Di zomboide Guarda quanto è brutto Ok Suppongo io Deba fare Sì sì Subscribe Non ti preoccupare Deba fare qualcosa qua Ma esattamente Dove Ma guarda Ma prima non c'era No ragazzi Giuro che prima non c'era Giuro che Giuro che prima Quella roba non c'era Ok Devo andarla a piazzare Dov'è lui però Prima a togliere la visione notturna Magari si vede meglio Devo capire dove Dove è andato Ma ce l'ho tipo sotto Mr. Beast Guarda guarda Io ti osservo Sono diventato io L'assassino Sono io Mr. Beast Mr. Bestia Dove credi di andare Eh io ti osservo Anche senza luci notturne Con le luci notturne Su Fatti sotto Zitto Zitto. 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 No ok Zitto. Zitto. Dov'è? Dov'è? Sei andato? Aspetta non è che sta facendo il giro da questa parte No 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 Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Sali su sta scala Sali su sta scala Sali via 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 oh 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 mamma mia Eh sì fantastico Eh ma ma vedo un botto meglio senza videocamera Ma che schifo Vedo 10.000 volte meglio Ok Ma qua è possibile che non c'è nulla da fare? Cioè, davvero? Se mi ficco nelle finestre non posso fare... No Se mi ficco nelle finestre non posso fare niente Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro, vero? Dov'è? Ok, è lì Da che parte sta andando? Che sta andando dritto Eh, ragazzi, però io non riesco a trovare le... Non riesco a trovare le altre barrette, però È lì Lui è da quella parte Mi sta cercando Mi sta cercando Sì, subscribe Non ti preoccupare Mi subscribe volentieri Dopo, però Qua c'è qualcosa? Vediamo No, qua non c'è niente Questo? Oh, aspetta Mi sa che l'ho trovato Zitto, zitto Mi sa che ne avevo trovato un altro Credo Fammi andare in visione No, aspetta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sali, 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 sali Perfetto No, stassa No, ehi Ce l'ho qua sotto Eccolo, guardatelo Si è buggato Sono riuscito a buggare Mr. Beast Fatti riprendere un attimo Bravo, bravo Così, guarda quanto è bello Si è tutto rotto Mr. Beast Ora però la mia domanda è Cioè, resta qua sotto a correre Anche se io me ne vado Cioè, l'ho incastrato qui sotto per sempre Oh ragazzi, mi sa che l'ho incastrato Fammi provare a fare una cosa Eh, io sono una finestra Guardami Anzi non guardarmi Io sono la finestra E tu non puoi fare nulla Però qui sopra io non vedo, non vedo Fistball Aspetta Tira la telecamera veloce Dov'è? Ok, è lì Io forse riesco a fare il gi Qua c'è qualcosa No, non c'è niente Forse riesco a fare il giro E siamo a tre Dov'è lui? Dov'è lui? Non lo vedo Ma perché devo giocare un gioco di Mr. Beast? Aspetta, forse lo vedo Lui è lì Aspetta, aspetta Zitto, zitto È finita la benzina e sono morto Come dovrebbe essere collegato il fatto che sono morto Ed è finita la benzina? Quindi se io piazzo la terza Ok, 8-1-5 Vabbè, aspetta, aspetta 8-1-5 Mi manca solo un pezzo di codice Però se io torno indietro e li provo tutti Oh, dai, 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 via, via Ok, aspetta, aspetta Ok, ok Piano, 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 piano Dov'è l'imbecille? Ok, l'imbecille è qui Se io torno indietro e li vado a provare tutti Dovrebbe succedere qualcosa? Sì, ho capito Te ne puoi andare per favore che io devo un attimo spaccarmi le gambe giù Ok, bravo, bravo Ciao Perfetto Via, 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 via Se io adesso chiamo l'ascensore E me ne vado? Ok, ok Via, via l'uscita, via l'uscita, via l'uscita, via l'uscita 8-1-5 Ne manca solamente uno Giusto? Quindi suppongo che se io lo prendessi a caso Dovrebbe funzionare? Dai, 8-1-5 Vediamo Dai Non penso Basti Ok, usa 8-1-5 Boh, 9 Ok 8-1-5-2 8-1-5-3 No 8-1-5-1 No 8-1-5-4 No 8-1-5-5 No 8-1-5-6 Dai Ho vinto? Sono fuori? Sono fuori? Eh, devo fare parkour per arrivare all'elicottero? Va bene Non c'è problema Devo semplicemente fare Tua zia Devo fare parkour Parkour Va bene Va bene Non c'è problema Posso farcela Adesso so la password Adesso so che devo fare del piccolo parkour master Fammi vedere con la telecamera un secondo da che parte devo andare Eh sì, qua devo fare tipo salto dell'aquila Va bene, va bene, va bene però Oh Lì c'è Carlo quell'altro Ok, non devo cadere Non devo assolutamente cadere Ciao bro, tutto a posto? Spero Spero vivamente di sì Qui prendiamo i punti Più vici Come faccio a saltare da quella parte? Come? Dai su Quanto può essere difficile? Va bene Mister Beast Io ti voglio bene Però lasciami perdere Grazie Ok Ok, questo saltiamo qua Questa Da questo come faccio a saltare da quella parte? Eh ragazzi ma devo saltare proprio tipo all'angolo? Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? All'angolo No Lì dentro Lì dentro No Ci siamo quasi Ci siamo quasi Salta Fermo, fermo, fermo Come faccio a saltare sulla scala al volo? Ci sono riuscito? Sento un elicottero Ma non vedo niente Quindi? Oh Sono volato via con l'elicottero? Abbiamo vinto il gioco dove dovevamo scappare dalla fabbrica qua Dal magazzino di Mister Beast demoniaco Cioè Vi rendete conto?